Buonasera a tutti, l'obiettivo per quest'anno è sicuramente quello di fare un campionato a vertice, un bel campionato, meglio di quello dell'anno scorso, quindi puntiamo in alto. Sicuramente la squadra c'è, il mister è una persona di grande esperienza, quindi siamo molto fiduciosi sull'esito di questo campionato. Poi comunque diciamo sempre, per noi l'importante è divertirsi, creare un ambiente favorevole, anche per Tortoreto, comunque per la comunità e tutte le ragazze che fanno parte anche del settore giovanile. Questa è una stagione importante per la prima squadra, ma non manca ovviamente l'impegno per il settore giovanile che rappresenta poi una caratteristica della società. Sì, il settore giovanile noi negli ultimi anni stiamo investendo molto, tant'è che abbiamo riconfermato la guida da parte di Mauro Mantovani come direttore tecnico e tutto lo staff è stato riconfermato quasi per la totalità. Siamo molto contenti dell'esito delle iscrizioni e comunque dei progressi che stanno facendo le ragazze che vanno delle più piccoline, che hanno sei anni fino all'under 18. Abbiamo fatto molti campionati, è impegnativo, ci vuole costanza e comunque sia puntiamo molto sulla parte tecnica, quindi garantire una qualità alle ragazze che vengono da noi. Sicuramente per quest'anno avremo degli obiettivi anche per il settore giovanile. Diciamo che stiamo andando avanti discretamente, il gruppo si sta compattando negli ultimi giorni perché avevamo iniziato con qualche defezione dovuta a impegni di lavoro e situazioni varie, abbiamo fatto un paio di, chiamiamole amichevoli, partite di allenamento con altre squadre, diciamo che siamo sulla buona strada, stiamo assemblando il gruppo, credo che ci siano ancora grossi margini di miglioramento, però per adesso ci sono abbastanza contento. Che obiettivi ci sono in questa stagione? Gli obiettivi in genere sono sempre abbastanza importanti, chiaramente è stata costruita una squadra con delle buone prospettive, quindi dipende un po' anche dal livello delle altre squadre e da come si sviluppa questo campionato, che è un campionato particolare perché è molto lungo che si decide nelle ultime settimane, però è chiaro che noi staremo davanti. Ultima domanda, mister, se ha già individuato quelle che potrebbero essere le divani dirette per contendere le posizioni di verità? Guarda, in questo momento la preoccupazione maggiore è rivolta all'assemblaggio del nostro gruppo, ci sono voci in giro che parlano di quella o dell'altra squadra, è chiaro che 4-5 squadre, secondo me, ben attrezzate ci sono, per cui noi in questo momento stiamo pensando più a noi, che credo sia la cosa più importante. La mia domanda d'obbligo, insomma, per Tortoreto, Mimmo Chiovini è una sorta di seconda casa, pallavolisticamente parlando, insomma, è nella storia di questa società, insomma, poi le presenze di Chiovini hanno comunque segnato momenti storici, pallavolisticamente parlando. Allora, io l'avevo già detto l'altra volta, per me, io provo sempre una grande emozione, anche a rivedere te, insomma, e tanti altri che ho visto in passato, l'hai definita giustamente, pallavolisticamente, direi anche la mia prima casa pallavolisticamente, diciamo la seconda, però ecco, è un posto dove si è creata questa occasione, sono stato veramente molto contento di tornare, perché comunque mi ero reso conto durante la stagione, vedendo qualche partita, che c'era molto entusiasmo e che sicuramente il nuovo gruppo che sta gestendo la società ha delle idee molto chiare, ambiziose e secondo me anche un'ottima struttura, per cui sono veramente contento. Ora si è detto bene, ci sono dei nuovi innesti che si sono amalgamati molto bene all'interno della squadra, il gruppo sarà prematuro dirlo, ma cresce bene. Mister Chiovini prima parlava di entusiasmo, ti dato anche quella che è, insomma, la storia del mister fatta qui a Tortoreto, quanto sentite importante la responsabilità quest'anno veramente di fare un campionato di vertice? Allora sì, l'obiettivo è abbastanza ambizioso, siamo già entrati nell'ottica, stiamo lavorando bene, la responsabilità è tanta, però cerchiamo sempre di tenere i piedi per terra e fare comunque bene il nostro lavoro. Grazie. Grazie.